in questo video continuiamo a parlare di notifiche push utilizzando questa volta un'altra modalità per l'invio delle notifiche che openhab invia a fronte di ben noti eventi in particolare vediamo come utilizzare il sistema di messaggistica telegram per inviare queste notifiche come sempre per prima cosa andiamo a vedere la documentazione del telegram binding che ci dice che dobbiamo creare su telegram un nuovo bot e ottenerne il token di autenticazione e ci dice di andare su telegram e di inviare il comando new bot al bot father che è il bot che gestisce tutti i bot di telegram quindi ci spostiamo sullo smartphone apriamo bot father e inviamo new bot come lo chiamiamo openhab3 come username mettiamo domotix duino underscore bot perfetto token di autenticazione poi lo utilizziamo successivamente adesso bisogna aprire la chat con il nuovo bot e mandare un messaggio quindi clicchiamo e facciamo avvia e poi mandiamo un messaggio ciao ok continuiamo con l'operazione ci dice di ottenere il chat id utilizzando questo urlo del browser che potrebbe o non funzionare quindi noi proviamo adesso vado a copiarmi il token che mi è stato generato prima ok quindi non ha funzionato perché non mi è venuto fuori l'id ok in alternativa ci dice di aprire una chat con un altro bot quindi chat id ecobot ok torniamo sullo smartphone e andiamo a cercare un bot ad esempio proviamo a prendere get ids bot get ids bot vediamo cosa succede ok ci ha inviato il nostro id quindi facciamo la prova e testiamo generiamoci l'url con il token di autenticazione e il chat id che ci è stato appena generato e verifichiamo se ci arriva il messaggio test o h è il messaggio vediamo cosa succede sullo smartphone che abbiamo una notifica eccolo qua quindi sta funzionando il sistema di utilizzo delle api di telegram ok a questo punto passiamo a openhab chiudiamo questo passiamo openhab e andiamo a configurare il nostro telegram binding quindi lo andiamo ad installare ok l'abbiamo installato ho dovuto fare poi un riavvio di openhab perché altrimenti l'installazione falliva non so perché comunque adesso sembra tutto a posto andiamo a creare quindi una thing per telegram telegram bot non abbiamo molta scelta lasciamo tutto di default qui dobbiamo mettere il token del nostro bot appena creato il chat id sempre che abbiamo recuperato prima tramite l'altro bot lasciamo nessun tipo di formattazione nessun proxy creiamo la thing ok online a questo punto possiamo andare a creare la nostra aggiornare la nostra rule inserendo lo script per l'invio della notifica su telegram quindi prima cosa andiamo a crearci uno script che servirà facciamo standard e copiamo queste due istruzioni le scriviamo qua nello script devo solo andare a vedere qual è il codice quindi mi apro un attimo un'altra istanza vado a vedere la mia things e mi copio questo lo incollo qui così recupero la mia things e poi posso chiamare il send telegram allarme gas salvo ecco il nostro script quindi andiamo sulle rule prendiamo la nostra allarme gas notifica aggiungiamo una action oltre la notifica quella nativa e praticamente eseguiamo la rule che abbiamo scritto precedentemente che dovremmo trovare qua si chiama telegram chiudi don salviamo la nostra rule perfetto a questo punto dobbiamo scatenare la notifica di allarme che era basata se non ricordo male sull'item allarme gas ok quando l'item allarme gas riceve il comando on si scatena una notifica allora andiamo sulla nostra sitemap e ripartiamo eccola qua che è arrivata ok quindi ce l'abbiamo fatta in questo modo siamo in grado di inviare notifiche tramite telegram quindi possiamo notificare dei dispositivi senza che questi abbiano l'app nativa installata prossimo video vedremo come inviare le stesse notifiche ma via mail